team manager della Cinque Frondese Gianluca Raso, buonasera, bentrovato. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Dunque, la caccia al primo posto mi sento di dire che è finita per tutti, direi, però c'è questa lotta playoff invece che è molto appassionante, oggi voi con questa vittoria avete puntellato il vostro piazzamento portandovi a meno uno, tra l'altro dal secondo posto che è occupato insieme da San Michele e Rosarno, che ieri ha vinto lo scontrollato. È una bella lotta per le posizioni pre-off, perché il primo posto credo non ci sia quasi più niente da fare, meritatamente, il Borgo Verganico sta dominando il campionato, l'unica sconfitta è stata con la Cinque Frondese, però poi ha macinato punti e vittorie importanti che ora hanno un bel distacco su tutti. Alla seconda, alla quinta, siamo in pochi punti, poi c'è anche altre squadre che si stanno inserendo, come la Bovese che ha pochi punti dalla zona playoff, è una bella lotta, sarà un campionato importante, noi domenica abbiamo subito una brutta sconfitta con il Palizzo, oggi ci siamo ripresi riportandoci ad un punto della seconda in giustizia. Come si spiega la differenza di rendimento tra casa e trasferta della sua squadra? Perché ad esempio le ultime due trasferte consecutive sono state perse e questo quanto può incidere poi in vista del prosieguo, del playoff che in prima categoria, oltre a quelli di girone, poi fa fare gli scontri inter-girone e anche perché poi comunque la prossima settimana il test, non me ne voglia nessuno, non è probantissimo contro la Scillese. Sì, e poi ogni partito è una storia a sé. Sulla carta, no no, sulla carta. Sì, 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 con il Palizzo che era penultimo in classifica abbiamo perso. Diciamo che nella prima fase del campionato non abbiamo fatto male neanche il trasferto, vincendo a Borgo, vincendo con la Propella. Poi di queste due trasferte, le ultime due, a Rosanno dopo dieci minuti abbiamo giocato in dieci uomini con un'espulsione al rigore contro, quindi è stata una partita un po' condizionata. Con il Palizzi non abbiamo fatto la nostra migliore prestazione. Comprece anche un campo in cui non eravamo abituati, siamo arrivati un po' con gli uomini i contatti tra scolifiche e infortuni, però non sono alibi. Abbiamo fatto la nostra discusione e abbiamo perso perdendo punti importanti. Bene, grazie per essere stato con noi.